semplice mmo scusate di dio su borderlands 3d5 house 11 onesto la bet è avviata ragazzi se volete provare a vincere o perdere dei punti ricordate che sto giocando con le cuffie invertite il trickster il build è normale almeno quello che abbiamo visto una nancy questi sono un po' più vicini ok 3 tini li abbiamo dati 4 ottimo dai su che cazzo ah i cuffie invertite me l'hanno dimenticato raga non so dov'è io me li perdo nei loop alti non posso seguire i player perché me li perdo è veramente impossibile giocarlo ho vomito già hanno già finito un gen tra l'altro non li sento correre cerco di estranearmi per non sentire il sound ma non è fattibile non è fisicamente fattibile come cosa una volta che voto contro veda di perdere beh non si mette bene per ora che dire c'ha finito due gen raga porco due dai prego quindi anche così coltellini me l'avessi avuto l'instashot adesso l'avrei tirato giù the dart pure grazie spin thank you very much mate voglio quittare così tanto sto game se non fosse per le cuffie invertite e il the dart che mi ha tirato non ho capito cosa è successo non sento qualcuno non capisco se è solo lei ferita o c'è qualcun altro vicino raga non capisco troppo i sound davvero non li comprendo thanks mate by the way ti ho detto che si realizza kill mi aspettavo di no honestly però sto sparando davvero male stasera le cuffie invertite non aiutano le cuffie invertite davvero non aiutano sono proprio quelle cose che mi fanno tiltare le cuffie invertite non capisco neanche da dove arrivano i gen che stanno facendo e tutte queste cose qui devo andare pronto per la mattina vero? ciao spin buonanotte per la mattina dopo impegni? va bene tranquillo non ti preoccupare vi resta miglia di essere passato grazie a dei bittini caro non vorrei fare qualcosa come niente vorrei vedere dove sto tirando i coltellini dai gioco togli mi sa niente stasera ragazzi le cuffie le elimino basta non ce la faccio vediamo come va per il resto magari una kill la riesco a portare a casa speriamo ciao off the record questo devo fare passando dei coltellini due hook un gen due gen rimanendo quasi uno oh no sento un sento un boom ma non capisco dov'è raga sento un boom mi riuscite a spiegare dov'è in qualche modo fa ancora il boom a sto punto facciamo finta di non vederlo e poi all'ultimo ci giriamo madonna che hit madonna che hit poi facendo feste cose basta gatto allora lo slagghiamo oh sta già andando a save qualcuno dobbiamo slaggare e magari riusciamo a ucciderla così Scusate ma sono in tryhard mod Sono letteralmente in tryhard mod in questo istante Voglio cercare di vincere a tutti i costi Giocando più sporco possibile Non fregno il cazzo Il buro è sicuro a sinistra o a destra Adesso vado a vedere Almeno uno l'abbiamo eliminato Hai snake vinci? Guarda ci provo in tutti i modi Mi frega un cazzo devo tryhard Io lo sento a sinistra Quindi è a destra Doveva essere di qua Eccolo qua schifoso bastardo Ah si è spento il totem Perché è morta la tipa Sneverlake Che dire Dove saranno Ma gli ultimi? Vi ho bettato sempre su di sì Non deluderci Oh io ci provo raga Sto giocando con le cuffie invertite E sto tiltando fortissimo Ma proprio forte forte Io lo sentivo ancora lì Convintissimo Guarda non per non serve Può anche perdersi l'assi Direi proprio di no Dai dio santo Perda perda No no raga allora Dato benvenuto al first time chatter Però non perderò Ci provo Ormai è perso il game Questo Mi scherzo si chiama Questo The Sizing Strike Gli ha fatto vincere Completamente adesso il game Non ho più possibilità Di recuperare dopo Il The Sizing Strike Amplifon Guardi eh La flammo adesso Giuro Vabbè niente Tutto è l'ultimo coltellino Almeno trovassi questi Questi cazzo di loop bassi Oh parco 2 Snake Prendi qualche cazzo di coltellino Il sole Sì sì è letteralmente Se potessi spegnere le cuffie Lo farei giuro Mi aiuterebbe a spegnere le cuffie Giuro Minimo pareggio Non è detto Se riesco a tirare giù questa Sono in un buon punto Si è bloccato questo di Genno Ah perché L'altro si era bloccato Con Deadlock Ok Stavo un attimo controllando Tanto ormai questo Non ci arrivavo comunque Questo è troppo avanti Vorrei regredirlo Sto aspettando Ecco niente Ho aspettato troppo Ok Devo sperare di riuscire A uccarlo in tempo Su uno scourge Se l'ucco in tempo Sullo scourge Posso recuperare Se no no Non so se ci arrivo però Se vinci questa La prossima volta Che voterò no Lo farò solo Se giochi trap Senza donna Onesto Beh comunque Adesso questo è in regressione Almeno Questo qui non mi conviene Romperlo di muro Mi conviene di brutto Tenerlo così com'è Ho un Trigen In realtà In realtà Il fatto che ho il Trigen Mi metto in una posizione Di vantaggio assurda Assurda proprio Il problema è che Sì loop Sono terrificanti Vorrei andare per il Bill Ma In che regressione è questo Sono in una posizione Un punto di vantaggio Il problema è Questo loop Che è infinito È un infinite loop Questo E dura veramente troppo Quello che cazzo era Ah Ricopriamo tempo Ricopriamo Che cazzo è questo Ah è questo Ok Dead hard È zero Sì Ok Allora Se io la gioco piano Questo game lo vinco Per forza Non posso perderlo Se lo gioco piano Però se continueranno a curare Può durare tantissimo Questo game può Letteralmente andare a durare Ogni ore Forse qua Se I tassi colpellini Di merda Snake Snake ti prego Italy Ok Ah carico e vado di nuovo al gen Lì lo devo slaggare Ok no Perfetto 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 Ancora lo 0% Dopo un'ora di gioco automatico È il gioco da 4k al killer Sì 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 Mi fatti Lo faccio durare letteralmente Un'ora Così non ho problemi Ok Sono rimasti in due Quella ha saccato Luke Gen Che non ha continuato a girare lì Non lo so Allora conviene correre Più lontano dal gen È ancora bloccato In realtà Posso continuare a su di lei Nice Che si sbanca Vediamo Vediamo Magari lo finiscono L'ultimo gen Adesso vedi che citta E l'ultimo gen Lo finisce in un nanosecondo Sarebbe il colmo Che dici Signor Snake La detesto Allora È colpa vostra Che buttate contro Se posso Il sistema di reward È un po' sbilanciato Però In che senso Signor Jeremy Che sistema di reward Non si betta Contro il 4k Il reward è la bett Perché tu dici che la botola Dovrebbe essere considerata Jeremy Vuoi sapere perché L'abbiamo deciso così Molto semplice Perché Se io dovessi Tragardare tutte le partite Per il 4k Compresa la botola Molto semplicemente Mi troverei 4 minuti A slaggare un tizio Ed è noioso In stream Molto semplice Per questo Così diamo la possibilità A dire Ok Se trovo la botola Trovo la botola Se però sono già infiniti No No Solo una questione Di punti Ah beh Se una questione Di punti È colpa vostra Quello di più viene da voi Non da me Non sono io a scegliere i punti Conto a quanto rosico Che sono arrivato A votazione concluse Sono riuscito a malapena A spammare 7 click Sul 10 Ma sai che puoi mettere Un numero vero Capito Cioè puoi sceglierlo Il numero Lo tirano sulla schiena Cioè lo so appunto Fatto in tempo Ah ok Non l'ho capita questa Cioè manco lei Che sta giocando Cioè manco fosse Fosse lei che sta giocando Con le cuffie invertite Ma dove è andata? Quando cazzo è passata Vabbè Però dopo sto game Non si può dire Che il gioco è pro serve Drogo Il gioco è pro serve Sono loro stati stupidi Si sono Si sono trigennati da soli Se non avessero fatto Il trigenn avrei perso Se uno dei tre gen Fosse rimasto qui Avrei perso Lo cazzo è andato No non puoi tranquillamente Forzarlo al trigenn Se sei in quattro Non lo puoi fare Torco di viaz Motto Non puoi tranquillamente Farlo Se sei in quattro vivi Non puoi La cosa che mi ha salato È che ho tanelato uno Poi avevano brand new part Pure Ok Capisco Scam totale Bet vinta Sì Bet vinta Ops Baby trickster Quattro Capta No ж